Abbiamo fatto il primo consiglio della Nuova Antae, è un'azienda che ha dei progetti realisticamente attenzioni, è un'azienda che è arrivata alla conclusione di un importante accordo di momenti anche drammatici, vorrei dire a tutti che quando si è iniziato i primi contatti con il piano, l'Italia è in una situazione che vorrei definire drammatica. Le quattro priorità sono, e quanto più, da che forse la più importante, la prima una fortissima attenzione alle risorse dell'azienda, dietro qualunque servizio, prodotto eccezionale ci vogliono donne e uomini eccezionali. Quindi la priorità numero uno è rivolta a chi lavora in realtà, in termini di motivazione, in termini di ambiente di lavoro, in termini di condivisione, di priorità e di obiettivi. Il successo dell'amità si basa fondamentalmente su chi in questa azienda lavora, che ha passato negli anni difficili, con spesso continui cambiamenti per il management e in certi momenti con un'attenzione anche eccessiva e in qualche momento ha stato un po' prevenuto. in un'attività di internazionale, con il servizio, le orte e i brand, pur via generale più. Io non ho altro da dirvi, se noi ci accentiamo tutti con molto entusiasmo a questo lavoro che il piano dà un supporto